con questo testimonial. Fratelli d'Italia su tutto il territorio nazionale, da oggi inizia la sua raccolta di firme per chiedere lezione diretta del capo dello Stato. Del resto noi, dove le cose funzionano, già eleggiamo i nostri presidenti, i sindaci, i presidenti di regione, i presidenti di municipio nelle grandi città. Qui ne abbiamo un esempio, Giovanni Totti oggi, testimonial della nostra campagna, governatore della Liguria, insomma funziona il modello dell'elezione del presidente. Si può scoprire che hai dato tutto alla persona sbagliata. Floris, sono brutti incidenti. E' fregatura. Io lo metterei da parte, quello che conta è il fatto. C'è un altro che Meloni, la Presidente del Consiglio all'inizio ha detto più volte che non è vero che questo progetto limita, altera i poteri del Presidente della Repubblica, se lo ricordo. Certo. Che è una cosa che è palesemente falsa, altro che essere limita. E' proprio gli amputa delle competenze. Non può più scegliere a chi dare l'incarico del Presidente del Consiglio. Quello è un incidente di percorso. In qualche misura può però... Diciamo...